Una bellissima iniziativa quella dell'associazione Siamo Taranto che sistematicamente, periodicamente dà il suo contributo in termini di volontariato per ripulire varie zone degradate, sporche della città e siamo in quella di Tramontone e vediamo i vari volontari impegnati nel raccogliere di tutto di più, ma mi ha colpito in modo particolare vedere questo cestello, questo raccoglitore di rifiuti che poi mi sono documentato, ho visto, l'avete trovato abbandonato, l'avete pittato e ora è stata messa anche un'asta proprio per far sì che gli incivili imparino a civilizzarsi. È bellissimo che dei cittadini invitino gli altri a dire signori questo è un cestino dei rifiuti, qui si buttano i rifiuti e non a terra. Certamente, sono tutti materiali che noi in qualche modo riutilizziamo, quindi non sono neanche acquistati, abbiamo anche delle persone riciclati che ci aiutano a fare tutti questi oggettini in modo tale che possano essere utilizzati in questa maniera. Ovviamente li abbiamo messi noi qui in modo tale che perlomeno sia un input, anche il colore giallo, a utilizzarli invece che magari lasciare i rifiuti così sugli scogli. C'è sempre da capire che comunque questa terra è la nostra e la dovremmo curare intorno. Anche perché non ci vuole nulla, anziché buttare i rifiuti, cosa ci vuole? Anche perché poi chi viene qui ci vive, quindi che senso ha che io debba venire qui e debba stare in un porcile, passatemi l'espressione. Sì, sì, effettivamente è proprio quello il messaggio che cerchiamo di far passare. Questa dovrebbe essere proprio la nostra casa e quindi dovremmo curarla come se fossimo proprio a casa nostra. Grazie per la visione!